SIGLA SIGLA Vai Fede, vai! Adesso inizia la salita! Adesso inizia le salite dure! Hai solo 3 minuti! A Milano Sanremo, 299 km, la corsa più lunga di tutte! Chissà se un giorno anch'io potrò correrla. Ma che di correre? Non andiamo a vincerla! Federico è più portato per lo studio che per il ciclismo. È vero? Tu piuttosto? Perché hai scelto di venire a lavorare qui? Io ho bisogno di comprarmi una bici nuova per partecipare alle selezioni. Se c'è bisogno di una bici, chiedila pure a me. Te la presto io. Così vediamo chi è il migliore. Questo è il massimo che ho potuto fare. Però potete stare qui tutto il tempo che vorrete. Ridi, ridi che tanto la gara non la fai con me ma con Fede! E poi vediamo se riderei ancora, eh! Federico, ma dove vai con questa bicicletta? Cos'è? Oggi non ridi? Chiunque sarà il vincitore! Oggi abbiamo un nuovo nome nel ciclismo dell'etantistico-piemontese. Per non venire in negozio e per non allenarsi vuol dire che è successo qualcosa. Potevi robarci tutto, ma non possiamo permettere a nessuno di robare i sogni di un ragazzo. Oddio! Quella un paese! Che partì! Grazie a tutti.